Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Centro, il nuovo Centro, ovvero il Reboot e salutiamoci di continuare con la terza città musica perché il premato introduttivo non si sentiva, era triste in stanza musica diciamo così quindi è il solito di inizia con la moneta normale, per la definita di imprenditore e godiamoci l'inizio nella nostra bellissima e fantastica avventura Grazie You sure you're at the right party? This is a celebration for the saints, is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be I was hoping your bosses would be interested in a new partnership Business with Marshall is less Barkly Grazie a tutti. 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 Why? Grazie a tutti. 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 No plan survives contact with you Come on Corretta bene No Non ho bene per lanciare I ragazzi sono uscito a bugare lì dentro Uno C'è una quantità Di gente morta qua dentro che è Una cosa spaventosa C'è una cosa spaventosa C'è una cosa spaventosa C'è una cosa spaventosa Perchè non rispetto la tua autorità Quindi rispetto questo Tu hai detto un po' sulle stelle Andiamo a intracciare il nostro Simpatico amico Anche se non è il nostro amico Non è tanto meno simpatico Quindi possiamo andare No In realtà Usare il C'è lui Ma C'è Assumato Tutta scontrazione E vabbè Evibbi C'è lui Ehi C'è lui Ehi Il Me Abbiamo bisogno di aiutare, ora! Prendete, non abbiamo tempo per la città di hero! Non ti preoccupi, ho capito! Prendete, abbiamo un problema! Prendete, il cavallo è venuto! Oh, no! Oh, no! Come out with your hands up! Not today! Oh, no! 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 Oh! Oh, no! Oh, no! Ah! Ah! You're too predictable. Am I? Ah! 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 You tried. I'll do that. Get your hands in the air! I caught him! Ah! 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 Красiy... Un'area Subito al top. Un'area bellissima che mi ci ....... flanella! Colto che mi siia e flanella! Ok! Vabbè! e siamo a posto ragazzi allora possiamo scegliere di cambiare di un aspetto oppure possiamo andare così normali confermiamo allora, non è stato un buon starto Jesus Christ tu non ti scegliere i pepdogi bisogna un lavoro questo è per te performance bonus è questo un gioco? you uh, you ribbing the rookie? what were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance That's right And if you had performed exceptionally You would have seen a bonus Oh come on, can you really look me in the eyes And say I didn't do well I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told I saw a better way and I took it And if you were in charge It would have been an inspired decision But you're not I am This is a warning Fall in line or find a new job Sì, guys, finisce la prima parte Sì, è tuttissimo giorno Yeah, che bello E ora sì, in realtà direi che Tempo di uscire Da questa schermata di caricamento Sentire quella che se ricordo bene sono le ultime parole Cioè, le ultime battute No, che non è vero, non ci sono Io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio Di se intro E must read Anche se in realtà è reboot Ma ok